Il secondo comitato di pilotaggio di questo progetto Europeo Tribù è un progetto importante perché parla di come si possa conseguire una rinaturalizzazione di alcuni ambienti, della regimazione delle acque in funzione di una maggiore sicurezza, di un abbassamento del rischio. Questo studio viene fatto attraverso diversi elementi, il primo con delle tecniche di ricerca, delle modellizzazioni che ci consentano di capire dove conviene investire e quanto in alcune situazioni e nell'altra con una parte di progetto che vuole mettere insieme le diverse parti della società. Sappiamo tutti che rischi adozionali con i mutamenti climatici sono più frequenti, sono più alti e ci vuole contributo di tutti, non può essere solamente un problema degli amministratori dello Stato, dare una risposta a questo contesto. Questo progetto operativamente entre i comuni Campo dell'Elba, Sola Russa e Camogli effettuerà degli interventi di detombamento per esempio di corsi d'acqua, di messa in sicurezza di ave e di rinaturalizzazione complessivamente.